Qui eccoci in studio con l'amico Renato Lamera, lo sguardo Sean Connery, lo sguardo dello Sean Connery del tiro a volo. Abbiamo visto i tiri impossibili di Renato Lamera. Renato cos'è il tiro a volo dinamico? Per quanto mi riguarda il tiro a volo dinamico da parte mia è una specialità di tiro molto difficile, ma il mio compito è di far risultare facile tutto ciò che è difficile, quindi far capire alla gente che non è vero, che è difficile ma che è così semplice come niente. Comunque dietro c'è un grandissimo lavoro e questo tiro a volo dinamico è nato comunque a suo tempo da un invito fatto dal presidente della federazione, l'amico Luciano Rossi, che invitò attraverso una rivista, invitò i tiratori a esprimersi, a portare gente al tiro e io mi chiesi come posso fare io per portare gente al tiro. E quindi inventai questa specialità sapendo che la strada era molto lunga e quindi riuscì a catturare attraverso questi spettacoli il pubblico, ma non il pubblico e i tiratori, tutto il pubblico, pubblico che non ha niente a che fare con il tiro e io ho visto che era comunque un sistema vincente e da lì sono partito, ho cominciato a fare spettacoli in pubblico e poi ho trovato anche durante il mio cammino delle ditte, delle persone, degli amici che mi hanno sostenuto in questa mia avventura perché devo dire che la mia famiglia lo sa, i miei amici sanno che quanta tribolazione c'è dietro qua. Alla fine sono riuscito ad avere quel successo da propormi o comunque da essere chiamato in tutto il mondo, comunque in diverse parti del mondo per divulgare questa specialità e comunque inaugurare grandi eventi attraverso questo spettacolo. Uno spettacolo, torno a dire, che coinvolge tutti, tutte le persone di tutti i centri sociali, piace a tutti quindi in particolar modo piange anche a me perché mi diverte un mondo quando sparo. Certo, è uno spettacolo che raggiunge il suo punto culminante nel tuo record del mondo. Sì, il record del mondo lo stabilì nel 2005 in Austria in occasione di un'inaugurazione di Coppa del Mondo, dichiarai al pubblico, alla stampa che tentavo questo record, riuscì a farlo al terzo tentativo, quindi lì ebbi questa, diciamo, fortuna fra virgolette perché non potevo fare più di tre tentativi e al terzo tentativo riuscì sistematicamente a colpire undici piattelli con undici colpi separati con una grandissima gioia, in particolare mia e degli amici presenti alla manifestazione. Da lì ebbi anche la conferma, diciamo, di questo record attraverso la testimonianza di tre giudici internazionali di tiro e un notaio che ha certificato le firme di questi giudici. Questo è servito anche a me per pronarmi sempre di più, ad andare sempre più verso la conoscenza tecnica del tiro e per questo motivo ho approfondito, sto approfondendo degli argomenti specifici del tiro in generale attraverso anche la scuola ISA che io ho potuto fare a livello federale a Roma l'anno scorso. E Renato, in che misura questi grandiosi risultati e in che misura Fiocchi ti aiuta a raggiungerli? Beh, Fiocchi, io con Fiocchi ho degli apporti di amicizia che non c'entrano con la cartuccia Fiocchi. Ho cominciato con l'allora senatore Fiocchi, poi i figli, i tre cugini, Stefano, Piero e Costantino. Alleno i ragazzi, i piccoli dei loro fratelli, quindi io in un colpo solo sono in confidenza con le tre generazioni Fiocchi. Quindi un rapporto di amicizia sincera, un rapporto anche di supporto tecnico, perché alla fine le cartucce sono quelle, sono i miei occhi alla fine, le cartucce sono eccezionali, in qualunque parte del mondo io vada me le trovo sempre, qualsiasi esigenza io ho non ci sono problemi, vengono fatte, perché è chiaro che io facendo questi tiri estremi ho bisogno di una grande assistenza e la Fiocchi è sempre presente con me in queste cose qua. Quindi un plauso veramente alla ditta che non mi ha mai abbandonato e che comunque in qualsiasi parte del mondo io vada trovo sempre cartucce a Fiocchi, cioè anche la loro distribuzione è abbastanza talmente ampia che è facile trovarle. Quindi Alessandro è un connubio che non avrà mai fine tra Fiocchi e la mera? No, anche perché con la passione che è capace di trasmettere quest'uomo è impossibile non anche volergli bene e fare proprio tutto quello che si può per supportarlo in qualsiasi maniera. Penso che sia un rapporto che veramente travalica quello che è il business e il lavoro. È proprio una comunione di intenti, assolutamente. Alessandra Fiocchi organizza delle gare. Sì, organizza delle gare, sì, ma prima voglio fare una rettifica a quello che ho detto perché proprio perché l'anno scorso abbiamo vinto così tanto, ahimè, mi sono dimenticata. Mi sono dimenticata un personaggio, tra l'altro molto molto simpatico, che ha voluto essere con noi anche a Santa Barbara in occasione della festa aziendale di Natale, Michael Diamond, che ha vinto la finale di Coppa del Mondo. Poi posso citarvi anche gli indiani che hanno vinto il campionato indiano, però insomma... No, non potevi dimenticare la leggenda vivente del tiro a volo. No, 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 Michael assolutamente, assolutamente no, anche perché abbiamo cercato anche di convincerlo a fare una sciata, ma visto che lui proveniva dall'estate australiana non era molto d'accordo. Non ama il freddo. No, non ama il freddo, si è presentato con l'infradito, quindi non era il caso portarlo sulle nevi. Però le gare Fiocchi, quest'anno iniziamo con le qualificazioni del Fiocchi Day, 15 e 16 maggio. Lo scorso anno abbiamo avuto record di partecipanti, poco più di 5.700 tiratori che hanno partecipato al Fiocchi Day, quindi grande successo, speriamo di riuscire a superarci quest'anno. Abbiamo la cartuccia d'oro allonato il 23 di maggio, in cui vi aspetto tutti, qua si vede una replica dell'originale. E poi la finale del Fiocchi Day a Valle Aniene il 20 di giugno. Queste sono le gare principali a cui Fiocchi tiene in modo storico, diciamo, assolutamente. Parliamo di un'altra iniziativa, Fiocchi, mi sto riferendo alla tessera disabili, che cos'è? Penso che tutti ricorderanno, fu il mese di settembre, quando contattammo la Federazione Italiana per cercare di supportare in qualche modo i disabili nell'attività del tiro. Tutti sanno che il disabile è, diciamo, poco svantaggiato rispetto a un normo dotato nell'attività del tiro. Quindi abbiamo pensato di fare qualcosa per supportare l'attività sportiva. La Federazione ha accolto le nostre iniziative, è nata questa tessera, con cui tutti i disabili possono godere comunque di facilitazioni per quanto riguarda le cartucce. Forse è un piccolo contributo, però inizia già a essere un piccolo passo per portare sempre più disabili ad avvicinarsi al mondo del tiro, della sfida agonistica, che penso sia importante, assolutamente. Alessandra, tu sarai a Brescia tra poco più di un mese, in occasione di EXA. So che avete disegnato uno stand nuovo, possiamo vedere anche le immagini. Sì, abbiamo investito, questo è lo stand che abbiamo realizzato settimana scorsa a Vicenza per l'Antin Show. Abbiamo deciso di fare una scelta di design, ritrovando immagini di repertorio dell'azienda, scattate a inizio secolo, che si vedono dietro, sono quelle dietro e retroilluminate, che ritraggono appunto l'attività produttiva di inizio secolo, e l'abbiamo accostata a immagini recenti, qua vediamo un cacciatore in alta montagna, che riprendono fondamentalmente le immagini che abbiamo proposto nel calendario, però abbiamo voluto fare quindi un connubio tra passato e presente. e penso, almeno da parte mia, con grande soddisfazione. Saremo a metà marzo all'IVA Show a Norimberga e poi aspetto tutti all'EXA. Dal 10 al 13 aprile. Esattamente.